Il progetto Mappa è nato due anni fa grazie a un finanziamento che è stato concesso dalla regione toscana per la realizzazione della carta di potenziale archeologico dell'area urbana e per la realizzazione del primo archivio di dati archeologici interamente open data che sia stato prodotto in Italia. Il finanziamento è stato presentato alla regione toscana dall'Università di Pisa che ha partecipato con tre dei suoi dipartimenti il dipartimento che allora si chiamava di scienze archeologiche che è il dipartimento del quale facevo parte io che adesso nel frattempo è diventato dipartimento di civiltà e forme del sapere a seguito dei cambiamenti che si sono prodotti nell'università in questi ultimi due anni il dipartimento di scienze della terra quindi geologi e geomorfologi e abbiamo deciso di coinvolgere anche il dipartimento di matematica e soprattutto di coinvolgere colleghi matematici esperti in analisi numerica perché ci è venuta un'idea cioè quella di provare a elaborare un algoritmo che fosse ad hoc pensato appositamente per la disciplina archeologica per il calcolo del potenziale archeologico che fosse in grado per l'appunto di calcolare automaticamente il potenziale archeologico la regione toscana ha fatto quello che purtroppo le istituzioni pubbliche da un po' di anni a questa parte stanno facendo sempre meno cioè ha deciso di investire in ricerca ha finanziato un nutrito numero di progetti alla fine del 2010 tra cui il nostro che appunto ha preso avvio nel 2011 e si conclude adesso il 30 di giugno dopo due anni secondo quello che era appunto la scadenza naturale i prodotti come si chiamano oggi i risultati della ricerca del progetto Mappa sono sostanzialmente tre quindi la carta di potenziale archeologico dell'area urbana di Pisa la carta di potenziale archeologico non è una carta archeologica la carta di potenziale archeologico parte ovviamente dalla carta archeologica somma a questa conoscenze di tipo geologico di tipo geomorfologico lettura di foto aeree informazioni desumibili da catasti antichi catasti storici noi per esempio abbiamo georeferenziato il catasto Leopoldino che è questo preziosissimo strumento della seconda metà del Settecento fatto dal Gran Duca di Toscana e lo studio della toponomastica e mettendo i dati archeologici ovviamente mettendo insieme tutte queste informazioni fa delle previsioni fa delle previsioni proprio sulle aree per le quali non si ha alcuna informazione quindi è uno strumento diciamo è lo strumento più innovativo e migliore che c'è in questo momento per fare che cosa? per pianificare lo sviluppo di una città che deve poter crescere il passato sepolto deve essere un valore aggiunto ma non deve essere un freno ovviamente allo sviluppo quindi la città deve poter crescere ma deve poter crescere con uno sviluppo sostenibile e compatibile con il rispetto e la tutela dei resti del patrimonio sepolto evidentemente il risultato è già online accessibile a tutti perché il progetto Mappa ha sposato fin dall'inizio la filosofia open data è sotto forma di un web GIS che chiunque qualunque cittadino per qualunque motivo il ricercatore perché gli interessa il funzionario dell'ufficio urbanistica o dell'ufficio edilizia del comune di Pisa perché deve rilasciare un parere e ovviamente i colleghi delle soprintendenze perché sono chiamati a fare tutela chiunque può consultarlo e lì ci trova tutte le informazioni georeferenziate naturalmente quelle che era possibile di referenziare certe notizie cinquecentesche o secentesche non è stato semplice georeferenziarle trova le informazioni archeologiche sia quelle che vengono dalla documentazione degli archivi della soprintendenza sia quelle già edite pubblicate a stampa trova il catasto leopoldino trova altre cartografie storiche trova la lettura delle foto aeree trova la ricostruzione geomorfologica del terreno di Pisa e trova anche delle ricostruzioni paleogeografiche cioè com'era il territorio di Pisa nelle varie macrofasi nel periodo preistorico e protostorico in età etrusca in età romana tardo-antica alto e basso medievale fino all'oggi il secondo risultato a cui puntavamo e qui entrano in gioco i colleghi del Dipartimento di Matematica era appunto trovare un algoritmo che fosse in grado definiti una serie di parametri a monte evidentemente di calcolare e di fare le valutazioni di potenziale archeologico automaticamente perché questo? per due motivi sostanzialmente il primo è per togliere un po' di soggettività a questo tipo di valutazioni dico un po' non possiamo pensare che le valutazioni siano oggettive in assoluto perché naturalmente i parametri in base ai quali lavora l'algoritmo li definiamo noi però togliere un margine ridurre il margine di soggettività nel momento proprio del calcolo l'altro l'altro obiettivo era quello di creare uno strumento che fosse applicabile ovunque cioè una formula standardizzata applicabile in qualunque contesto simile a quello di Pisa cioè simile a quello di una città medio-grande pluristratificata Pisa ha 3.000 anni di storia una dimensione medio-grande quante sono le città italiane in questa situazione? Praticamente tutte direi quindi diciamo dal 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 prototipo che è stato elaborato il prototipo che è stato elaborato non può essere applicato su Roma per esempio perché ovviamente la dimensione della città è tutta un'altra ma tutte quelle città da Firenze a Pisa penso alla Toscana a Siena Lucca eccetera ma anche fuori in Modena Bologna eccetera qualunque città con queste caratteristiche e il terzo prodotto è il è il MOD cioè il MAP Open Data Archeological Archive che è il primo archivio di informazioni archeologiche fatto secondo i criteri dell'Open Data quindi apertura a tutti possibilità a tutti per chiunque lo voglia di accedere alle informazioni nella consapevolezza che è proprio dalla conoscenza del nostro patrimonio che nasce la migliore tutela perché soltanto rendendo partecipe la comunità che vive in un determinato territorio di che cosa ha sotto i suoi piedi di che cosa la circonda che quello che è sotto i piedi e quello che la circonda viene tutelato meglio e poi anche nella consapevolezza che si tratta di informazioni che riguardando un bene pubblico come sono i beni archeologici devono poter essere accessibili liberamente dalla collettiva e questo è il progetto siamo riusciti con grandi sforzi a portare in porto tutti e tre gli obiettivi che ci avevamo prefissati naturalmente volevamo fin dall'inizio dare pubblicità a questa iniziativa disseminare i nostri dati e volevamo appunto che i nostri dati fossero disseminati con il principio dell'open data dell'open access che significa liberare i dati ma naturalmente liberarli con dei criteri quindi con dei codici DOI che sono l'equivalente elettronico degli ISBN delle pubblicazioni a stampa con delle licenze creative commons che tutelassero la paternità intellettuale di chi quei dati ha prodotto perché aprire dati non significa disperderli ovviamente e quindi siamo andati alla ricerca di un editore che ci garantisse questo tipo di disseminazione noi volevamo appunto usare molto il web proprio perché siamo consapevoli che e lo abbiamo potuto verificare che attraverso il web è possibile raggiungere pubblici che non saremmo mai riusciti a raggiungere noi abbiamo visto che i nostri volumi sono stati scaricati in Australia perché possiamo vedere dove vengono scaricati sono stati scaricati a Persa sono stati scaricati all'università di Berkeley e temo che con i mezzi tradizionali difficilmente o perlomeno non nei tempi rapidissimi con cui siamo riusciti a farlo saremmo riusciti a far arrivare queste informazioni in questi luoghi così lontani del mondo non è stato facile nello stesso tempo volevamo anche delle pubblicazioni a stampa perché tutto sommato almeno in Italia ancora soprattutto nel mondo dell'archeologia i colleghi scienziati sono più abituati di noi noi siamo meno abituati volevamo appunto delle pubblicazioni che volendo potessero essere o scaricate gratuitamente dal computer dal sito del progetto oppure anche acquistate nella forma cartacea a costi che non fossero ovviamente previti abbiamo faticato non poco a trovare una casa editrice che fosse in grado di fare questo lavoro che fosse in grado di farlo nei tempi sciaguratamente brevi che noi chiedevamo perché due anni per fare tutto questo lavoro sono stati veramente pochi e quindi anche la fase di disseminazione dei dati è stata molto molto compressa e dopo devo dire un'attenta ricognizione in tutta Italia ci siamo imbattuti nella casa editrice Nuova Cultura la quale fin dall'inizio ha risposto devo dire con grande entusiasmo alle nostre richieste che sono state in alcuni casi anche veramente così mi rendo conto molto molto pressanti abbiamo il primo volume di mappa è stato pubblicato in tre settimane perché questi erano i tè doveva uscire entro il 30 giugno dello scorso anno e noi praticamente l'abbiamo consegnato alla fine di maggio e quindi diciamo questa collaborazione noi siamo molto soddisfatti di questa collaborazione e siamo anche invitiamo anche la casa editrice Nuova Cultura a proseguire su questa strada perché crediamo che il futuro della ricerca e quindi il futuro della pubblicazione dei dati debba essere proprio questa lungo questa strada domani si inaugura un convegno di tre giorni in questa aula magna del polo didattico del polo didattico Carmignani dell'Università di Pisa un convegno a conclusione di questo progetto che infatti sarà diviso proprio avrà quattro sessioni sui quattro appunto principali temi sui quali si è occupato il progetto cioè la predittività in archeologia il grande tema dell'open data e open access e la terza sezione appunto è dedicata alla geoarcheologia urbana che è questa disciplina a metà fra la geologia e l'archeologia che è proprio quella sulla quale si basano questo tipo di ricostruzioni questo tipo di analisi speriamo che il convegno vada bene ne siamo convinti i relatori sono importanti le relazioni i cui preatti sono online già da una settimana quindi visibili a tutti promettono le informazioni molto interessanti a